Benvenuti e bentornati nel mio canale Il Mondo di Gerry. Questo video è il proseguimento della lezione 2 che abbiamo trattato precedentemente La chimica della vita. Oggi tratteremo le biomolecole, strutture e funzione. Questo video si inserirà nella playlist di scienze biologiche. Per coloro che seguono i miei video, tratto di quiz commentati del concorso a cattedra per la classe di concorso A050 e diversi argomenti, passioni. Iniziamo. Gli elementi chimici e gli atomi. Si sa in natura che un atomo è costituito da un protone carica positivamente, da un elettrone carico negativamente e da un elettrone carico eletticamente neutro. La materia è formata dalla combinazione di elementi chimici, sostanze semplici e non scomponibili. L'atomo di per sé è la parte più piccola di un elemento chimico. Ogni atomo ha un nucleo, formato da un protone, neutrone ed elettrone che vi circola attorno. Tutti gli altri atomi invece tendono a raggiungere la stabilità, reagendo fra loro e formando dei legami chimici. I gas nobili sono gli unici ad avere atomi con il livello energetico esterno completo, ovvero che hanno raggiunto l'ottetto di stabilità. I legami chimici più comuni sono il legame ionico che si forma tra ioni di carico opposta che si attraggono reciprocamente e il legame covalente che si forma quando due atomi mettono in comune coppia di elettroni. Un classico legame ionico è NaCl più acqua, Na più, più Cl meno, il classico comune sale da cucina. Un classico legame covalente sono due molecole di idrogeno, H2. Gli idrocarburi, i composti organici più semplici, costituiti solo da carbonio e idrogeno, si dividono in alcani, alkeni e alchini, gli alcani che presentano solo legami covalenti semplici tra gli atomi di carbonio, alkeni che presentano almeno un legame covalente doppio tra gli atomi di carbonio e alkeni che presentano almeno un legame covalente triplo tra gli atomi di carbonio. Sono macromolecole, sono costituiti da pochi elementi chimici, carbonio, idrogeno, azoto, ossigeno, fosforo e zolfo. Hanno uno scheletro carbonioso e hanno un gruppo funzionale, composti polifunzionali. Possono essere suddivisi in quattro classi di composti, tra cui glucidi o carboidrati, i cosiddetti zuccheri, che hanno sia una funzione energetica e strutturale. I lipidi, grasse e ioli, da cui poi vedremo che si dividono i lipidi semplici e i lipidi complessi, hanno una funzione energetica e strutturale. I protidi, le proteine, funzione sia strutturale che regolatrice, e acidi nucleici, DNA e RNA, contengono informazioni biologiche. La composizione percentuale dell'organismo umano è nettamente favorevole all'acqua. dipende ovviamente dall'età dell'individuo. Attenzione! Monomeri e polimeri Le biomolecole più grandi e complesse, detti polimeri, sono formate dall'assemblaggio di più subunità, detti monomeri. Le reazioni di condensazione, reazioni che abbiamo visto in seconda lezione di questa playlist scienze biologiche, unisce più monomere tra di loro, con l'eliminazione di una molecola d'acqua. Invece le reazioni di Rolisi scendono di polimeri complessi in polimeri più semplici, con l'aggiunta di molecole d'acqua. Sempre nel secondo video, siamo andati a indagare la seguente tabella che rappresenta appunto il gruppo funzionale, la formula generale, la classe di composto e alcuni esempi dei gruppi funzionali e della formula generale. Ho aggiunto qui personalmente alcune molecole che li contengono. Nel caso del gruppo funzionale ossidrilico, vi sono i zuccheri e le vitamine di idrosolubili. Nel gruppo funzionale carbonilico, alcuni zuccheri in la forma deide, CH2O. Carbossilico, amminoacidi, proteine, alcune vitamine e acidi grassi. Amminico, amminoacidi, proteine, l'urrea presente nelle urine e prevenente dalla demolizione delle proteine. I composti organici più complessi sono caratterizzati dalla presenza di gruppi funzionali legati allo scheletro carbonioso. Carboidrati sono una fonte di energia per le cellule e i tessuti. Sono composti di carbonio e possono essere utilizzati per formare altre molecole. Costituiscono materiali di sostegno e rivestimento cellulare. Gli zuccheri, chiamati più propriamente glucidi o saccaridi o carboidrati, sono composti organici formati da carbonio, idrogeno e ossigeno. In ogni molecola le proporzioni sono di un atomo di carbonio, due di idrogeno e una di ossigeno. I carboidrati sono la principale fonte energetica, tra cui l'amido e il glicogeno, forma energetica anche per gli animali. Sono monosaccaridi per la maggior parte degli organismi e si classificano in base alla loro complessità, tra cui monosaccaridi. Rappresentano i monomeri di base di cui sono composti gli zuccheri, più complessi. Sono gli zuccheri più semplici, comprendono i pentosi come il ribosio, a 5 atomi di carbonio, e gli esosi come il glucosio e il fruttosio, a 6 atomi di carbonio. Sono monosaccaridi infatti il glucosio, il fruttosio, il galattosio e il ribosio. Quando glucosio e fruttosio si legano attraverso un legame detto glicosidico, infatti formano disaccaridi, cioè derivano dalla condensazione di due monosaccaridi che si uniscono attraverso un legame glicosidico. I monosaccaridi sono i carboidrati più semplici e sono costituiti da molecole la cui formula molecolare generale è CN, è il numero mai inferiore a 3 e spesso non superiore a 6, H2N o ON. Si distinguono in base al numero di atomi di carbonio, in triosi 3 atomi di carbonio, tetrosi 4 atomi di carbonio, pentosi 5 atomi di carbonio e così via. Gli aldosi possiedono un gruppo funzionale aldeidico, i chetosi un gruppo chetonico. Nota bene, tabella. L'aldoso più semplice è la gliceraldeide CE3H6O3, della quale esistono due enantiomeri, la D-gliceraldeide e la L-gliceraldeide. Qual è la differenza semplicemente dalla D-L? Le lettere D destro, L, leve, sinistra, si riferiscono alla posizione del gruppo H sul secondo atomo di carbonio della gliceraldeide. I monosaccaridi della serie D sono quelli biologicamente rilevanti. Quindi è una domanda di un test, quali esso possono essere i monosaccaridi quelli di? Quindi ricordiamo tra i D-aldosi, di glucosio, di galattosio, di ribosio, due desossi ribosio, tra i D-chettosi invece di idrossiacetone e di fruttosio. I monosaccaridi sono molecole chirali, cioè esistono in due stereoisomeri. Per distinguere i due stereoisomeri si usano i prefissi DL, i monosaccaridi naturali esistono specialmente come D-isomeri, di ribosio, di desossi ribosio, di glucosio e di fruttosio. Quindi la convenzione DL, la gliceraldeide è il carbodato più semplice, ha un centro stereogenico indicato con l'asterisco, la D-gliceraldeide è stata scelta come standard per individuare le confirazioni tipo D. I monosaccaridi in soluzione acquosa formano in genere strutture cicliche chiamate emiacetali. Come è evidente in figura, gli atomi di carbonio si dispongono in senso orario a partire da carbonio 1, che è a destra nella formula. L'ossigeno a ponte fra carbonio 1 e carbonio 5, in posizione 5 voglio dire, è in alto a destra e i sostituenti stanno sopra o sotto il piano dell'anello. Quei dette formule di proiezione di Haworth, gli atomi di carbonio che costituiscono l'anello, non sono espressamente indicati con la lettera C. L'atomo di carbonio in posizione serie è fuori dell'anello. I monosaccaridi esistono prevalentemente in forma ciclica. La forma ciclica esiste come due isomeri, detti anomeri, chiamati alfa e beta, a seconda della posizione C, so trans del gruppo H, attaccato al carbonio in posizione 1. La formazione dell'amiacetale e la chiusura dell'anello danno origine a due nuovi isomeri ottici, detti anomeri, in equilibrio fra loro. Nel caso del diglucosio, l'alfa diglucosio è un OH disposto sotto il piano dell'anello, in trans rispetto al gruppo etanolo legato al carbonio in posizione 5. Il beta diglucosio, l'OH disposto sopra il piano dell'anello, in cis rispetto al gruppo etanolo legato al carbonio in posizione 5. I disaccaridi derivano dalla condensazione di due monosaccaridi che si uniscono attraverso un legame glicosidico. Sono gli disaccaridi il saccarosio, il lattosio e il trealosio. Un disaccaride è un acetale in cui il gruppo H, anomerica, è sostituito da un gruppo R, attraverso una reazione di condensazione, detta acetalizzazione. L'alfa diglucosio più l'alfa diglucosio con l'eliminazione di acqua forma il maltosio, un legame alfa 1-4 glicosidico. Perché 1-4? Perché si lega in posizione 1 e 4. 1 e 4. Quindi il legame glicosidico viene indicato con la posizione degli atomi di carbonio delle due molecole che si uniscono. Niente così di difficile. Il maltosio si produce dalla degradazione dell'amido, è composto da due molecole di glucosio alfa. Il cellulobiosio si produce dalla degradazione della cellulosa, è composto da due molecole di glucosio beta. Il lattosio è composto dal galattosio beta e glucosio beta. Il saccariosio è composto dal fruttosio alfa e glucosio beta. Questo fa indicare appunto che i disaccaridi hanno bisogno, nella loro formazione, di due molecole. Invece i polisaccaridi derivano dalla condensazione di molti monosaccaridi e hanno funzioni di riservi di struttura. Sono polimeri di grandi dimensioni, formati da monosaccaridi uniti da legami glicosidici, comprendono abido, glicogeno e cellulosa. Sono polisaccaridi di riserva e glicogeno in funghi animali. L'abido nelle piante. Sono polisaccaridi di struttura, la chitina negli animali e la cellulosa nelle piante. La cellulosa è il principale costituente della parete delle cellule vegetali. I legami beta-glicosidici della cellulosa non possono essere idrolizzati dai succhi digestivi del nostro organismo. È il polisaccaride per tanti indigeribile. L'unione mediante i legami glicosidici di numerose molecole di monosaccaridi porta alla formazione dei polisaccaridi classificati in omopolisaccaridi costituiti dalla ripetizione di un solo tipo di monosaccaride. Eteropolisaccaridi contengono invece due o più tipi diversi di monosaccaride. I polisaccaridi a catena lineare e i polisaccaridi a catena ramificata. Vediamo nell'esempio appunto la presenza di glucosio. I numeri in rosso indicano la convenzione standard per la numerazione degli atomi di carbonio. Carbonio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questo è un gruppo aldeico, degli aldeidi, quindi COOH, doppio legame con l'ossigeno e un legame con l'idrogeno. La linea scura indica il bordo della molecola che esce dalla pagina. La linea sottile si stende indietro come se si allontanasse. Il glucosio più fruttosio è il saccarosio. In basso a sinistra abbiamo la cellulosa. In queste posizioni si può realizzare la formazione di legame idrogeno con altre molecole di cellulosa. L'amido è uno omopolisaccaride di glucosio. Esiste in due forme. Una lineare amilosio alfa e una ramificata amilopectina. L'amido è il principale deposito di energia nelle piante. Il glicogeno è uno omopolisaccaride di glucosio. Ha una struttura ramificata. È il principale deposito di energia degli animali. La cellulosa è uno omopolisaccaride di glucosio. La sua struttura è simile a quella dell'amilosio alfa ma con una configurazione beta e legame glicosidico. È il polisaccaride più abbondanti in attore. Ha un ruolo strutturale nelle piante. I lipidi sono molecole organiche accomunate da principali carteristiche. In acqua sono insolubili. Insolventi organici apolari sono solubili. Sono insolventi organici apolari. Libero a grandi quantità di energia. Sono composti da carbone e idrogeno. Sono i costituenti delle membrane cellulari. I lipidi svolgono funzioni di riserva energetica di regolazione e isolanti termici. I lipidi complessi sono saponificabili. In condizioni basiche l'idrolisi degli acidi grassi può produrre il sapone, il tensio attivo. Gli acidi grassi si suddividono in base alla presenza o meno di doppi legami che piegano la catena carboniosa. In acidi grassi saturi in cui non compaiono doppi legami tra gli atomi di carbonio. Come il burro. E gli acidi grassi insaturi in cui compaiono anche doppi legami tra gli atomi di carbonio. Come l'olio d'oliva. La classica struttura è un CH3, CH2, N legato a COH. Quindi avremo l'acido palmitico. Non ha doppi legami in questa catena dove ogni punta è un carbonio. Abbiamo un H2 legato qui. Eccoli qui. Quindi avremo qui. E nell'estremità abbiamo un CO e OH. Quindi ha 16 atomi di carbonio. L'acido oleico ha un doppio legame cis, in posizione cis, sul carbonio in posizione 9. E' un acido insaturo perché presenta appunto un doppio legame. I lipidi complessi, i trigliceridi. I trigliceridi sono esseri composti da acidi grassi e glicerolo. Se a temperatura ambiente sono solidi, vengono detti grassi. Se sono liquidi, si chiamano oli. Costituiscono importanti fondi di energia per le cellule. Quindi abbiamo tra cui una molecola di glicerolo, un alcol, più tre molecole di acido grasso. Una molecola di glicerolo lega tre molecole di acido grasso attraverso le reazioni di esterificazione, in cui vengono eliminate tre molecole di acqua. Nel caso acido palmitico, acido oleico e acido stearico, si legano al glicerolo attraverso le reazioni di esterificazione, quindi eliminazione di tre molecole di acqua, si formano dei trigliceride. Il trattamento accade in una miscela di grassi e oli con una soluzione concentrata di idrossido di sodio e idrossido di potassio, dà luogo a una reazione di saponificazione in cui si formano saponi, il tensio attivo, tra cui abbiamo il trigliceride appena formato, lo possiamo fare reagire a loro volta con un idrossido di sodio, a caldo si forma il glicerolo e un saponi. Gli oli vegetali, ad esempio, possono essere trasformati in sostanze solide, dette in margarine, attraverso l'addizione di atomi di idrogeno a doppi legami, dette reazioni di idrogenazione. I fosfolipidi possiedono un'estremità idrofila e due lunghe code idrofobiche, formano un doppio strato che costituisce la membrana cellulare, abbia, come presente in figura, la testidrofila a trattare le molecole porale di acqua. La testidrofila, cui carica positiva e una carica negativa, che si aggancia subito in una code idrofobica. Le code idrofobiche si allontanano dall'acqua, evidente, ad esempio, la colina, il fosfato, il glicerolo, le catene idrocarburiche, formando così una fosfati di collina, cioè un fosfolipide. A destra troviamo, appunto, l'esempio del doppio strato fosfolipidico, dove le troviamo soprattutto nelle membrane delle cellule. In un ambiente acquoso, le code si dispongono lontano dall'acqua, le testi interagiscono con essa, girano un doppio strato, il cosiddetto doppio strato fosfolipidico. Questa è la struttura di base delle membrane cellulari. Invece, i fosfogliceridi sono esteri del glicerolo, prima classe dei fosfolipidi, perché ricordiamo che i fosfolipidi hanno due classi, la prima che viene chiamato il fosfogliceridi, o il fosfogliceridi, la seconda classe è detta i fosfingosfosfolipidi. Sono formati, i fosfogliceridi, da glicerolo con due molecole di acido grasso esserificate sui primi due atomi di carbonio. Sono molecole anfipatiche, cioè tendono a formare i doppi strati quando si trovano a contatto con l'acqua. Il glicerolo esserifica in terza posizione è anche un gruppo fosfato legato a sua volta a un gruppo di natura ionico polare, come presente in fosfogliceridi. E questo è l'acido fosfatidico. Altri tipi di lipidi, i carotenoidi, gli steroidi, le vitamine e le cere, sono lipidi che svolgono compiti di conversione di energia, regolazione e protezione. Ad esempio troviamo il colesterolo, è un costituente delle membrane, da esso derivano gli ormoni steroidei. La vitamina D2 si può produrre nella pelle grazie alla luce su un derivato del colesterolo. Il cortisolo è un ormone secreto dalle ghiandele surrenali e il testosterone è un ormone sessuale maschile. Steroide e cere Svolgono ruoli strutturali. Tra gli steroidi, il colesterolo è presente nelle membrane cellulari, mentre il testosterone è l'ormone sessuale maschile. Le cere così rischiano un rivestimento protettivo impermeabile nei vertebrati e molti insetti, così come in foglie e in frutti e delle piante terrestri. I lipidi semplici, detti terpeni, non contengono acidi grassi e quindi non sono saponificabili. Sono un gruppo di lipidi non saponificabili che derivano dal 2-metil-1-3-butadiene, noto come isoprene. I terpeni, più comuni includono il limonene, l'alfa e beta-carotene e le vitamine A, E e K. Gli steroidi hanno una struttura centrale fatta da 4 anelli, composta da 3 anelli con 4 atomi di carbonio e un anello con 5. La sintesi degli steroidi nelle cellule comincia col terpeni squalene, dal quale sono prodotti l'ianosterolo e il colesterolo. Dal colesterolo si producono altre biomolecole come gli ormoni sessuali e il progesterone. Proprietà e funzionali delle proteine Terza biomolecola La forma e la proprietà chimica delle proteine determinano la loro funzione. L'albumina L'alterazione struttura tridimensionale di una proteina è detta denaturizzazione ed è spesso accompagnata dalla perdita della sua normale funzionalità biologica. Le vitamine sono classificate in vitamine idrosolubili e vitamine liposolubili. Quelli idrosolubili svolgono un ruolo chiave come cofattori della catalisi enzimatica. Le vitamine liposolubili sono 4 A, D, E e K e reggono processi fisiologici fondamentali nell'organismo umano. Gli ormoni lipofili detti gli ormoni tiroidei quelli prodotti dalla corticale le surrene e le gonadi che sono molecole lipofile. Alcuni di questi ormoni sono derivanti del colesterolo e vengono classificati come derivanti lipidici ormoni steoridei. Un esempio di ormoni steoridei è il cortisolo. Ma le proteine cosa sono? Le proteine opetidi sono polimeri di amminoacidi. Gli amminoacidi in natura sono 20 ciascuno costituito da un atomo di carbonio centrale legato a un atomo di idrogeno un gruppo carbossilico COOH e un gruppo amminico NH2 e un gruppo specifico gruppo R del radicale. Un esempio qui presentate è la alanina. Gli amminoacidi si uniscono per formare lunghe catene polipeptidiche. A sinistra l'emoglobina è una proteina presente nei globuli rossi. Nel dettaglio la mioglobina ed emoglobina sono due esempi di proteine globulari che svolgono il loro ruolo in soluzione. La mioglobina è una proteina monomerica relativamente piccola così ridita da 153 amminoacidi contenuta nelle cellule muscolari. All'interno della proteina trova spazio un gruppo M negli esseri umani adulti. L'emoglobina presenta due catene alfa e due catene beta. Ciascuna di queste catene lega un gruppo M. Quindi le proteine hanno funzione di sostegno in forma cheratina nei capelli e nelle unghie e di collagene nei legamenti e nei tenderi. In metabolismo gli enzimi catalizzano la reazione. Trasporto le proteine di trasporto e la membrana plasmatica fanno entrare e uscire sostanze dalla cellula. Di difesa gli anticorpi distruggono gli agenti patogeni e prevengono le infezioni. Di regolazione alcuni ormoni come l'insulina sono proteine di regolazione e di movimento l'actina e la miosina sono componenti nei tessuti muscolari. Le proteine sono costituite da unità strutturali di base chiamate aminoacidi che si legano fra loro a formare i cateni polipeptidiche. Possono essere proteine semplici se costituite esclusivamente dalla componente polipeptidica l'albumina e la cheratina citata prima. Le proteine coniugate se sono presenti in gruppi prostetici di varia natura l'emoglobina polipeptidica tenediamminoacidi proteine semplici proteine coniugate polipeptidi più ioni e o molecole organiche non amminoacidiche detti gruppi prostetici. Gli amminoacidi presenti quindi hanno un gruppo carboxilico un gruppo amminico e una catena laterale radicale di un qualsiasi gruppo alchilico quindi tutti gli alfa amminoacidi delle proteine tranne la glicina mostrano quattro sostituenti diversi legati all'atomo di carbonio alfa che è quindi un centro stereogenico quindi perché carbonio questo carbonio qui detto appunto centro stereogenico ogni amminoacido esiste sotto forma di due isomeri ottici diversi di L i due gruppi funzionali di ciascun amminoacido sono legati allo stesso atomo di carbonio e sono detti alfa amminoacidi gli amminoacidi riferiscono fra loro per la natura chimica gruppo R catena laterale gli alfa amminoacidi presenti nel proteine appartengono sempre alla serie L da ricordarsi da ciò che abbiamo detto prima invece la D gliceraldele è stata scelta come standard per gli duali e configurazioni di tipo D i aminoacidi hanno priorità acido-base L'azoto e il gruppo amminico può accettare un protone e trasformarsi in NH3+, gruppo amminico il gruppo carbossilico può accedere un protone e trasformarsi in gruppo carbossilico CO o meno qui scritti in forma ionica I venti alfa amminoacidi che costituiscono le proteine si classificano in base alle caratteristiche strutturare la loro catena laterale che influenzano in particolar modo la priorità della molecola gli aminoacidi apolari aromantici alifatici gli aminoacidi polari catena laterale ionizzabile e aminoacidi acidi o basici e polari catena laterale non ionizzabile il gruppo carbossile di un aminoacido può reagire col gruppo ammino di un secondo aminoacido con perdita di una molecola d'acqua reazione di condensazione cioè nel momento in cui un aminoacido più un secondo aminoacido si legano e va via appunto va a perdere un'acqua una molecola d'acqua quindi reazione di condensazione rilascia una molecola di acqua tale legame di due aminoacidi viene chiamato legame peptidico quindi di peptide cioè due peptidi di peptidi tripeptidi tetrapeptidi sono esempi di oligopeptidi brevi cateni formati dall'unione di pochi aminoacidi al massimo una decina per intenderci quando gli aminoacidi aumentano il numero si parla di polipeptidi l'ordine con cui gli aminoacidi si legano è determinante avremo sempre una sequenza così un'estremità amminoterminale o un'altra estremità carbositerminale le proteine sono classificate anche in base alla loro forma che è ottimizzata per la funzione da svolgere le proteine fibrose svolgono funzioni strutturali tra cui la cheratina le proteine globulari svolgono le loro azioni in soluzione mioglobina le proteine membrana le proteine svolgono molte funzioni proteine enzimi funzioni accennano le reazioni cellulari proteine strutturali conferiscono stabilità e partecipano al movimento proteine di difesa riconoscono e eliminano le sostanze estranee all'organismo proteine di segnalazione e controllo dei processi cellulari proteine recettori ricevono e strasmettono i segnali cellulari trasportatori di membrana regolano il passaggio di sostanze attraverso il membrana cellulare proteine di trasporto legano e trasportano sostanze all'interno dell'organismo la funzione di una proteina è strettamente legata alla sua struttura e alla sua organizzazione le proteine hanno quattro livelli di organizzazione struttura primaria data alla sequenza lineare di aminoacidi struttura secondaria data dal ripiegamento la catena di aminoacidi può essere di alfa elico o a foglietto beta ripiegato struttura terziaria adatta dal ripiegamento di polipertidi a struttura secondaria struttura quaternaria adatta dall'interazione fra due o più polipertidi le proteine condividono quattro livelli comuni di organizzazione strutturale queste conformazioni presentano una complessità crescente prendono il nome di struttura primaria secondaria terziaria e quaternaria la primaria residui di aminoacidi come è presente anche magari imparare anche l'IS GLI LEO VAL AL IS e come ho detto prima le due estremità la struttura secondaria con formazione locale della catena polipertidica la struttura terziaria con formazione complessiva della catena polipertidica la struttura quaternaria associazioni duo più subunità legame peptidico lineare costituiti da appunto monomeri più monomeri quindi polimeri legame idrogeno la conformazione ad alfa elica o foglietto nel momento in cui il beta viene ripiegato o il beta pieghettato si ripiega forma una struttura terziaria il foglietto beta non c'è un loop un gancio è un ponte di disolfuro a elica questo si contrae su se stessa formando una struttura quaternaria quindi primaria secondaria terziaria quaternaria la sequenza lineare di aminoacidi nella catena polipeptidica costituisce la struttura primaria di una proteina i gruppi funzionali due aminoacidi reagiscono tra loro dando origine a un legame peptidico quindi dobbiamo avere sempre presente un gruppo amminico più un gruppo carbossilico attraverso un legame peptidico fa unire le due estremità la struttura primaria i monomeri aminoacidi sono uniti e formano una catena polipeptidica la struttura secondaria è la catena polipeptidica che possono formare alfa elico fagheti beta la struttura terziaria per polipeptide si ripiega generando una specifica forma trivenenzionale i ripiegamenti sono stabilizzati dai legami tra cui al legame idrogeno e ponti di solfuro struttura quaternaria duo più polipeptidi si associano a formare molecole proteiche più grandi la molecola ipotetica qui raffigurata è una tretta mero costituita da quattro strumenti polipeptidiche la struttura terziaria produce una macromolecola con una precisa forma tridimensionale la cui superficie esterna presenta gruppi funzionali capaci di svolgere particolari reazioni chimiche con altre molecole specifiche una prima fase di pigamento comincia durante la sintesi infatti aminoacidi idrofobici tendono a stare all'interno lasciando i gruppi idrofilici all'esterno i responsabili della struttura terziaria sono le interazioni tra i gruppi R nel reticolo endoplasmatico il ripiegamento si completa grazie alle speciali proteine le proteine che hanno proietà simili spesso hanno anche una struttura terziaria simile le proteine recettori nella membrana se ricordiamo simporto antiporto come vedremo in seguito hanno una grande domina idrofobico che attraversa la membrana è un domino globulare che spogge fuori dalla cellula le molecole chiamate ligandi possono legarsi al recettore nel sito di legame che assume una specifica struttura terziaria invece la struttura quaternaria è il risultato del modo in cui le subunità polipeptiliche si legano insieme e reagiscono fra loro gli acidi nucleici sono polimeri formati da lunghe catene di nucleotidi ciascuna costituiti da tre componenti una base azotata l'adenina citosina guanina timine uracile o uno zucchero di ossibosio ribosio e un gruppo fosfato quindi una base azotata in questo caso si è scelto l'adenina un gruppo fosfato e un zucchero ribosio in questo caso ribosio quindi un'ocletide costituito dall'unione di tre specie chimiche più semplici una base azotata una molecola di zucchero a cinque atomi di carbonio ribosio di sossi ribosio e un gruppo fosfato quindi fosfato purino pirimidina dei sossi ribonucleotidi il gruppo ossidrilli in posizione 2 di ribosio è sostituito da un atomo di idrogeno nei deossi ribonucleotidi ad esempio invece da non confondere il col termine nucleotide col nucleosside perché il nucleosside è la molecola costituita da un montentoso ed è una base azotata ma priva di un gruppo fosfato quindi questo gruppo fosfato nel nucleosside non è presente essi sono due tipi di acidi nucleici il DNA e l'RNA gli atomi gialli in figura sono gli atomi di sfosforo e gli atomi rossi sono quelli di ossigeno a essi legati assieme alle molecole di desossi ribosio formano le impaccature delle due eliche le basse appiattite sono implicate al centro dell'elica gli atomi blu di azote e gli atomi grici di carbonio l'informazione genetica contenuta nelle DNA risiede nella sequenza di nucleotidi che costituiscono la doppia elica gli acidi nucleici contengono e trasmettono l'informazione genetica i monomeri ovvero le basi azotate sono di due tipi pirimidina e purina la pirimidina citossina timine e uracile come vedremo anche l'uracile non è presente ovunque la purina l'adenina e l'eguanina la base può essere una purina o una pirimidina quindi base pirimidina o purina più ribosio o deossossiribosio uguale cosa forma il nucleoside che attualmente è priva e priva del gruppo fosfato si attacca la base pirimidina o purina arriva il fosfato e cosa forma un bel nucleotide niente di più di difficile i polimeri sono due di nia e rna netta differenza da ricordare sempre che il corredo va sempre da 5' 1' 3' sempre 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 dal lato opposto invece arriva 3' 3' dall'altro opposto arriva 5' 3' sempre mi raccomando quindi l'ammurazione degli atomi carbonio di ribosio è la base per l'identificazione dell'estremità 5' e 3' dei filamenti del dna rna e per questo viene identificato sempre questa identificazione del 5' e 3' perché è la base per l'identificazione dell'estremità se osserviamo bene l'rna singolo filamento di un rna abbiamo l'utracile che non è presente nel dna infatti nel dna abbiamo la timina legata all'adenina e la guanina legata all'acitosina l'adenina legata all'atimina l'acitosina legata all'aguanina non ci pensiamo mai a legare l'acitosina con l'adenina mi raccomando l'acitosina va legata sempre con la guanina e l'adenina va legata sempre con l'atimina mi raccomando il ruolo del dna l'acido diossi ribonucleico è formato allo zucchero diossi ribosio e dalle basi azotate adenina guanina citosina e timina è costituito da due filamenti nucleotidio avvolti a spirale contiene messaggio genetico la doppia elica del dna in natura si trova sotto forma di due fili combinati con una doppia elica e due fili sono complementari antiparalleli a caso dell'accoppiamento fisso del basi adenina timina citosina e guanina da ricordare che nell'RNA non troveremo la timina ma troveremo la l'uracile è costituito l'RNA da un singolo finamento di nucleotidi che anche qui la netta differenza rispetto al dna nell'RNA è una copia del messaggio genetico portato a un tratto di dna ed è coinvolto nella sintesi delle proteine l'RNA nelle cellule è presente come un filo singolo esistono diversi tipi di dna con funzioni diverse l'RNA messaggero l'mRNA contiene le informazioni con rispondenti di una proteina l'RNA ribosomiale il più abbondante rna nelle cellule fa parte del ribosoma necessario per la sintesi delle proteine l'RNA di trasporto il tRNA è una corta molecola che porta gli amminoacini al ribosoma e il micro dna non codifica le proteine ma può inibire le funzioni dell'mRNA quindi l'RNA è un precursore diciamo della vera propria sintesi di passaggio che andrà poi ad aiutare nella sintesi del dna gli organismi ricavano energia dall'ambiente e la trasformano all'interno delle cellule per utilizzarla secondo le proprie esigenze le reazioni anaboliche quindi reazioni di anabolismo sintetizzano molecole complesse invece le reazioni cataboliche e catabolismo le scendere le molecole più semplici anabolismo e catabolismo continuiscono il vero metabolismo le cellule sintetizzano molecole di ATP adenosine trisfosfato utilizzando l'energia prodotta le reazioni cataboliche e poi le idroliziano per attivare le reazioni anaboliche l'accoppiamento energetico reazioni che producono energia respirazione cellulare e catabolismo energia la sintetizzazione di ATP da ADP anenosine di fosfato e fosfato richiede energia ATP di idrolisi di ATP in ADP e fosfato libera energia e si forma di nuovo l'ADP reazioni che richiede energia trasporto attivo movimenti cellulari l'anabolismo gli enzimi sono proiettine che accelerano le reazioni cellulari sono catalizzatori biologici ogni reazione è catalizzata in uno specifico enzima che lega il substrato nel proprio sito attivo il substrato e l'enzima si avvicinano il substrato si lega al sito attivo formando un complesso enzima substrato si liberano i prodotti l'enzima substrato un enzima con catalizzatore proteico dotato in un sito attivo capace di legarsi a uno o più molecole di substrato la loro funzione di facilitare o accelerare le reazioni chimiche del metabolismo cellulare gli enzimi abbassano l'energia di attivazione che necessari i substrati per generare i prodotti e le reazioni chimiche hanno dei siti attivi dove si legano le molecole dei substrati dove avvengono le reazioni le proteine ha funzione catalitica gli enzimi abbiamo appunto un substrato chiamato S in questo caso si combina in modo specifico e rivestibile col sito attivo dell'enzima e formando il complesso enzima substrato la formazione complesso attivi substrato alcuni legami chimici presenti nella molecola diventando più reattive e predispongono il substrato della trasformazione grazie all'intervento di specifici gruppi funzionali presenti al sito attivo si attua la trasformazione del substrato nel prodotto il prodotto si distorcia dall'enzima che può iniziare un nuovo ciclo catalitico le proteine in funzione catalitica gli enzimi il numero di turnover di un enzima è dato dalle moli di substrato che sono trasformato in prodotto da parte di una mole di enzima in un secondo in condizioni di reazioni ottimali l'attività enzimatica è la quantità di substrato che viene trasformato in prodotto in unità di tempo in condizioni di reazione ottimale regolata da contrazioni pH cofattori o piccole molecole di supporto temperature e molecole che attivano e inibiscono l'enzima uno dei meccanismi principali per controllare l'attività di un enzima consiste in variare la disponibilità dei substrati altri meccanismi di regolazione sono l'allosterismo modificazioni covalenti e inibizione enzimatica i cofattori sono piccole molecole organiche di natura non proteica necessarie per l'attività catalitica di alcuni enzimi le molecole organiche che agiscono come cofattori vengono anche chiamati coenzimi le vitamine idrosolubili del gruppo B sono trasformate in derivate essenziali per la catalisa enzimatica implicate in varia misura nei processi metabolici a cari di carboidrati lipidi amminoacidi la vitamina C sbogge invece un'importante funzione di antisoddante a seconda del tipo di reazione che catalizzano è possibile identificare 6 principali classi di enzimi l'ossido redutasi azioni catalitiche all'ossido riduzioni trasferasi trasferimento dei gruppi funzionali idrolasi idrolasi quindi un'idrolisi di un legame chimico liasi rottura di legami chimici con la formazione di un doppio legame isomerasi reazione di isomerazione ligasi formazione di un legame unito con idrolisi ATP gli esperimenti di Francesco Redi e Luis Pastor provarono che non esiste la generazione spontanea della vita secondo l'ipotesi dell'origine extraterrestre le prime biomolecole sarebbero giunte sulla terra trasportate da comete e meteoriti secondo l'ipotesi di riduzione chimica le condizioni presenti sulla terra primordiale condussero alla formazione di biomolecole semplici che diedero origine alle prime forme di vita come nel caso in questa figura si possono formare composti chimici organici in condizioni simili a quelle presenti nell'atmosfera primordiale terrestre si riscalda una soluzione di sostanze chimiche semplici per produrre un'atmosfera di metano ammoniaca idrogeno e vapore aquio da ciò si apporta energia per la sintesi di nuovi composti tramite scintille elettriche che simulano i fulmini con una condensatore si fanno raffedare i gas atmosferici in una pioggia contenenti nuovi composti che si raccogliono in un mare si raccoglie il liquido condensandosi e si analizza i risultati dopo l'analisi del liquido di condensazione hanno formato composti chimici organici tra cui gli amminoacidi la conclusione di questo esperimento le unità chimiche costitutive della vita potrebbero essersi generate nell'atmosfera che probabilmente esisteva sulla terra primordiale grazie di avermi seguito le biomolecole strutture e funzione prossimamente vediamo nel prossimo episodio bioenergetica ossia anche metabolismo energetico di tale biomolecole e le loro azioni noi ci vediamo ai prossimi episodi un abbraccio caloroso come sempre iscrivetevi al canale se vi è piaciuto il video condividete lasciate un like e commentate cercherò di rispondere a tutti grazie mille un abbraccio ciao ciao ciao